Alle prime luci dell'alba i militari della compagnia Carabinieri di Misilmeri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari a carico di 10 persone, tutte residenti nel quartiere Brancaccio di Palermo, indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al furto di autovetture, ciclomotori, motocicli, estorsione, riciclaggio, ricettazione, rapina. I risultati coronano un'investigazione che si è protratta per sei mesi a partire dal febbraio del 2019 e che ha consentito di individuare i promotori dell'organizzazione e gli affiliati, alcuni dei quali all'epoca dei fatti erano anche minorenni. L'associazione praticava anche il cavallo di ritorno richiedendo del denaro alle vittime dei furti affinché potessero rientrare in possesso dei beni sottratti. Proprio a tal riguardo sottolineo l'importanza che ogni cittadino si rivolga in presenza di richieste di questo tipo con fiducia e tempestività all'arma dei Carabinieri per contrastare il fenomeno, recuperare l'area furtiva e per non sottostare a queste vili richieste estorsive.